il treno suburbano s 9 52 95 di treno nord proveniente da milano porta garibaldi e diretto al bairate ver mezzo delle ore 6 e 04 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a cesano boscone trezzano sul naviglio gaggiano il treno suburbano s 9 24 1 0 0 di treno nord proveniente dal bairate ver mezzo e diretto a saronno delle ore 6 e 25 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno suburbano s 9 53 85 di treno nord proveniente da seregno e diretto al bairate ver mezzo delle ore 7 04 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma cesano boscone trezzano sul naviglio gaggiano il treno suburbano s 9 24 1 0 1 di treno nord proveniente da al bairate ver mezzo è diretto a saronno e diretto al bairate ver mezzo delle ore 7 34 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma cesano boscone trezzano sul naviglio gaggiano il treno suburbano s 9 53 88 di treno nord proveniente dal bairate ver mezzo è diretto a attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma milano san cristoforo milano romolo milano porta romana milano lambrate milano greco pirelli sesto san giovanni munza lissone moggiò desio il treno regionale 10 5 4 3 di treno nord proveniente da milano porta genova e diretto a mortara delle ore 22 53 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma cesano boscone trezzano sul naviglio gaggiano al bairate ver mezzo abbiate grasso vigevano parona lomellina il treno suburbano s 9 53 96 di treno nord proveniente da al bairate ver mezzo è diretto a milano san cristoforo delle ore 22 55 e in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma milano san cristoforo milano romolo milano porta romana milano lambrate il treno suburbano s 9 53 96 di treno nord proveniente da al bairate ver mezzo è diretto a milano san cristoforo delle ore 22 55 e in arrivo al binario 2 invece che al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla non sono previste fermate intermedie iscrivervi al malapocatale iscrivervi al sindp Know